Benvenuti al video Questa è una presentazione del prodotto Modellini in Scala 2011 Lamborghini Aventador Metallico range manufacturer, auto art scale, un, 43D e Casting Acrylic showcase with black base plate Metallico range Manufacturer, auto art Scale, un, 43 D e Cast Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT Clicca sul link nella descrizione sottostante Grazie per la visione